Un fantastico Christian Fromm, MVP di una partita bellissima, una grande reazione da parte tua dopo una gara 1 non brillante. Diciamo sì, ho giocato meglio ma io posso giocare ancora meglio penso, sicuramente erano tutti MVP oggi, sono contento per la vittoria però abbiamo vinto anche fino adesso nulla perché dobbiamo vincere il mercoledì. Grande merito a voi di aver reagito ad un finale di terzo set un po' scioccante con un parziale di 8 a 0 che ha rimesso in partita Verona. Questo è pallavolo, tu devi stare sempre attento e con 22-17 è nulla, devi giocare fino alla fine, siamo stati con la schiena sul muro allora abbiamo giocato 100% e meno male l'abbiamo vinto oggi. Cosa ti è piaciuto di più di questa sera? Il fatto che abbiamo fatto pressione dal primo punto fino all'ultimo e abbiamo mollato mai. E adesso mercoledì si torna a Perugia per? Per vincere. Grazie.